Jenny Paita di Water on Mars oggi ci ha spiegato come si fa a diventare in pochi giorni una influencer del mondo fashion quindi la moda portata di mano e le opinioni altrui in tasca è possibile farlo in così poche ore è assolutamente possibile farlo in poche ore esattamente noi abbiamo impiegato otto ore per farlo ed è in realtà veramente molto semplice una volta che si tiene da parte veramente pochi spiccioli si tratta di 100 200 euro il concetto qual è fondamentalmente pubblicare delle foto interessanti iniziare a cercare degli hashtag che possano trainare una prima diciamo un primo follow che può essere organico dopodiché ci sono un sacco di servizi in realtà che vendono sia le interazioni che i follower falsi che poi vengono anche analizzati vengono anche scelti in base alla qualità ci possono essere quelli geolocalizzati oppure anche semplicemente quelli automatizzati ovviamente cambia il prezzo dopodiché avevamo anche preso un sistema veramente poco costoso che ha una serie di automatismi che permettono di fare networking per cui mettere like mettere commenti a tutti gli account che possono essere interessati al tema in questo caso era il tema della moda è veramente un sistema molto semplice però alle ore contate allo stesso tempo perché gli algoritmi di instagram dicono che se tu non alimenti una bella percentuale di tuoi fanbase con degli organici reali andrà a decadere prima o poi il tuo account ma noi questo abbiamo voluto fare per dimostrare come spesso si inizi questo tipo di carriera che è realmente poco costoso ecco e quindi per concludere dopo otto ore qual era il risultato quanti follower quante interazioni e che bottino portato a casa allora in otto ore avevamo 20 mila follower le interazioni se non ricordo male erano intorno ai 150 mila e entrando dentro un sistema gratuito online che fa una specie di audit delle tue performance ti dà anche un valore come influencer e ogni post del mio account fasullo che si chiamava chiara stone fashion blogger poteva guadagnare 300 dollari a ogni post naturalmente eravamo ancora all'inizio